Rende omaggio a quella che è la storia della società. Sì, davvero devo fare i complimenti a Salento Gianno Rosso, a tutta la gente che ha dedicato tempo, energie e passione per questa mostra, che devo dire mi ha emozionato, perché è come fare un viaggio attraverso la storia centenaria, l'ultra centenaria del Lecce, ed è emozionante, a parte i tanti spunti, tanti ricordi innanzitutto, perché anche nel periodo in cui da ragazzino seguivo il Lecce, e poi tanti spunti anche se un domani dovessimo riproporre maglie del passato, stasera ho visto due o tre maglie meravigliose che mi hanno conquistato. Per quanto riguarda invece l'idea che hanno avuto questi tifosi, potrebbe essere poi qualcosa che la società potrebbe riproporre un domani, magari in tempo stabile, una sorta di museo della Passione Giallo Rosso. Proprio in questi giorni stiamo facendo dei sopralluoghi in alcuni spazi del Via del Mare, nella zona della Tribuna Est, che ci sono dei volumi che non sono stati mai utilizzati. Stiamo pensando per le varie cose anche di capire sia se possiamo, dei vari lavori da fare, trasferire gli uffici, la segreteria e la sede, ma anche immaginare una sorta di museo permanente lì allo stadio, sarebbe un'idea davvero eccezionale. Vogliamo vedere se il Via del Mare ha questi volumi che ci consentono di fare qualcosa del genere. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, dopo la partita contro il Palma c'è grandissimo entusiasmo. Per Frosinone si parla di un possibile esodo, come sta la squadra e qual è il clima in casa Lecce in questo momento? Ti devo dire la verità, io sono partito lunedì e sono andato a Roma come tutte le settimane e sono tornato adesso. Quindi il clima in casa Lecce lo vedrò domani, in occasione della scannatura interna con la primavera. So, mi è sentito sia l'allenatore che Pantaleo, Corvino, che Trinchiera, che in settimana hanno lavorato molto, molto. Abbiamo qualche giocatore che è indifferenziato, ma mi dicono che non è nulla di grave, qualcuno è nazionale, però è una settimana in cui la Spara sta mettendo un po' di benzina. C'è un bel clima, vedo che la città è piena di entusiasmo. Risulta anche a me che per Frosinone c'è un po' un'area di esodo massiccio, poi la vicinanza con Roma, i tanti Leccesi che stanno in zona. Potrebbe essere davvero una fornice di pubblico bella, speriamo che non ci siano limitazioni particolari per questo trasferto.